ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video della tecnica di odio bambino esatto e io sono tenuto la macchina della galactica della galactica capito guardatemi 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 mi chiede tutto questo casino per caricare la macchina vuoi vedere vuoi vedere che è troppo è troppo e gpop sì 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 vieni a vedere michele vieni qua se anche강er se yamela guardami 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 guardali io scendo ok perché scendo va bene va bene andava a ok guarda che bello guarda questa montagna come bella questa montagna guarda quanto è bella questa montagna guarda guarda quanto è bella guarda guarda quanto guarda non si non se ne fotta proprio un cazzo questa macchina va bene frega un cazzo proprio niente di niente proprio fieri cioè benzina fuel carico quattro duote siamo a posto è fantastica questa cosa il bello è che quando c'è la rompi poi torni indietro volando perché fai prima però vabbè ma si ma sticazzi era tanto per rubata comunque per caricare questa cazzo per caricare questa cazzo di macchina ho fatto uno studio per capire come funzionasse veramente lo studio è stato già non è vero un cazzo perché non lo sapete abbiamo l'altra cosa abbiamo uno studio nella tecchia interna abbiamo proprio un rifugio in cui ci mettiamo la iniziamo a studiare le mode le cose è nato la e cosa hai fatto allora adesso ti faccio vedere ti faccio vedere guarda ho preparato questa cosa molto oppi la refinery addirittura allora 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 ho dovuto ho dovuto raccogliere tutto il petrolio ok il petrolio ce l'ho ancora qua in in un coso in un drum ok sono andato con una pompetta di quelle proprio stupide stupide da poveri hai riempito un drum con la pompa da poveri però ok va bene ok quindi facciamo un tesseract e poi iniziamo a portare giù le cose della galacticraft ok va bene va bene va bene va bene tesseract allora l'endarium ce l'abbiamo oh ho fatto il frame sì abbiamo tutto ma fanno i più possibili tanto sti cazzi l'endarium lo rifacciamo così abbiamo un po' di tesseract da parte ok ne ho quattro ne ho quattro quattro quindi bastano 32 under perl va bene ma riempine uno intanto andiamo un attimo giù perché raccogliamo a qualcuno aveva perso una balestra per caso possibile è guarda il fluid transposer il cazzo ci fa una balestra nel ma che cospito mi stai dicendo allora andiamo giù e ti faccio vedere i tesseract mettili a riempire eh fallo tu lo stai facendo tu oddio smetterà di piovere tra un attimo sì sì e comunque non è la mia balestra mi sa perché no è la mia credo sia la mia credo sia la mia è perché la famosa balestra scomparsa a causa di marcus che in realtà quando pare no no era il paxel nella farm di cervi ah possibile è vero è vero ok jo puoi prendere anche dei cavi di corrente quelli dell'endarium quelli verdi soliti sì in realtà bastano anche quelli più scrausi visto che ma sì tanto non è un problema fare questi rovi consumano poco allora vabbè ne andiamo 5 i tesseract basteranno dai oh 5 sì 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 basta una donna bastano sì basta ma dai allora no no piccone di merda non posso raccogliere il colmi dalla graffita dio cristo ah 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 Michele ma vedi perché era meglio avere il coso che brucia le cose vabbè e io ci avevo le torce lo stesso quindi non romper le balle vabbè quelle che fanno laggare eh le torce che fanno laggare ok non ci posso fare niente va bene io sto rompendo il pavimento stai rompendo il pavimento ma eh aspetta ma non abbiamo blocchi per mettere il pavimento esatto che blocchi possiamo mettere per il pavimento eh boh usiamo questi qua i laboratori blocchi questi qua quadrati tipo che che ne dici aspetta aspetta i laboratori blocchi qua quelli di bc a quadratini che ha messo al centro del pavimento giù ah ok va bene va bene dici cosa vuoi fare e in base a quello che vuoi fare allora volevo farvi vedere allora ve lo faccio vedere un attimo così il mio progetto di allora aspetta fuel loader e l'altro è il la refinery qua facciamo una stanza intanto vai dispari 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 pure ok allora prendiamo il fuel il fuel loader e la refinery ok le mettiamo una di qua e una di qua guarda che bella questa refinery mamma mia beh un blocco di refinery proprio bellissimo mamma mia mamma mia aspetta aspetta la paura cazzo per questa serve la come si dice l'energia da sopra è stupida questa cosa ma si ma ma è stupida questa moda non capisco perché vuoi energia diversa cioè come vuole lei ok va bene allora facciamo così non ho acceso il tesseract mi ha non hai non ho acceso il tesseract guarda come funziona adesso ah cagare va tutti sti problemi allora aspetta questo va disattivato gli altri metti input e output con sempre attivo ok in e out e ah ok sta raffinando ok praticamente adesso ti spiego con questo sistema compattissimo ok noi possiamo mettere all'interno i canister con il petrolio ok vengono svuotati ah viene raffinato adesso aspetta che lo faccio vedere nel video allora noi mettiamo dentro questa chest si lo so mettiamo dentro la chest di petrolio ad esempio uno di petrolio ok appena ce n'è bisogno il petrolio cioè la la boccetta di petrolio esce e entra dentro la refinery ah l'ha già presa e è già ritornato esattamente e torna di nuovo nella chest vuoto eh ma il fatto è che non so se prende quello di prende quelle vuote ma quelle piene le prende aspetta prende quelle vuote e le mette dal lato destro e le va a riempire con no le va a riempire con il carburante raffinato ok ah si infatti se no ti non si sta caricando il fuel tank appena finisce guarda quello raffinato torna torna nella chest ok e dalla chest adesso non lo so collegato così se torna nella chest diretto o va direttamente nel fuel loader ok va direttamente nel fuel loader si svuota e torna vuota dentro la chest è un ciclo infinito tipo e qua potremmo mettere una cosa che lo riempie ogni volta di fuel di petrolio noi adesso si dobbiamo aumentare la quantità di celle ok non adesso però aumenteremo la quantità di celle abbiamo fatto 19,16,10,9,7 vediamo se funziona guarda 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 come funziona guarda come funziona ma che cosa ho qui guarda 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 adesso quante ne ho messe è che si riempie subito la refinery guarda come vanno dentro è che è lentissima riempirla mamma mia no 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 a raffinarlo non a riempirlo riempirlo è fantanio si si infatti guarda adesso io li butto tutti dentro ancora questo 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 ma tutte queste celle di cani guarda guarda quello del è pieno ma dove sta aspetta vado a prendere la macchinetta tutte queste celle di petrolio scusami dove cavolo l'avevamo allora è un crafting semplicissimo con i materiali che abbiamo fatto nell'episodio scorso ok adesso aspetta lo faccio vedere un attimo sono delle celline molto molto semplici da fare come si chiama la macchinina? ah boh c'è la di tu è qua Michele è qua Michele mamma mia c'è un rincoglionito pensavo fosse nell'uplied probabilmente ce n'è un'altra ne abbiamo prese due ah è vero quindi bughi bughi ce n'è un'altra ce n'è un'altra perfetto allora canister canister oddio come queste celle sono veramente semplici da fare e per riempirle basta metterle nel fluid transposer con vanno anche sott'acqua vanno dappertutto queste macchine vanno dappertutto Michele sono OP dopo la flan mod sono davvero davvero OP si esatto per spostarti ad esempio metti la galactic e basta e fai questo fighissimo ti diverti con le macchine e basta ok sono entrato boom madonna che rapidità nell'entrata aspetta che carico anche questa no ma come ma io volevo caricarla andandoci sopra tipo ok guarda adesso parte anche questa è veramente troppo figo cazzo oddio ma proprio se ci sei sopra o non entrare nel soffitto Michele aspetta vediamo oh si carica 39 40 42 e qua sta scegliendo però automaticamente prende le celle piene di carburante le va è troppo è troppo cioè è troppo pie compatto questo sistema poi non serve a un cazzo la macchina però è figo no allora il punto non era caricare la macchinina il punto era l'impianto compatto potremmo utilizzare lo stesso anche per il razzo si ma adesso esatto adesso basta giocare e appunto passiamo al razzo ma passiamo al razzo non lo passiamo al razzo adesso oggi no va bene allora sistemiamo tutta questa zona ma te la sistemi tu sapete che possiamo fare una cosa utilissima che ci serve adesso perché in realtà abbiamo tanti materiali però ci servono tanti materiali in più perché tipo per due giorni non entreremo in questo server quindi ci servono tanti materiali in più e invece no adesso e cosa vuoi fare? ti prendo a martellati ti prendo a martellati fortissimo perché adesso noi facciamo una cosa che è una cosa utile una cosa utile in un mio video stai scherzando no no non si fa ti dà dei materiali cos'è sta cosa? utili al fine di realizzare aromi cammer sì quello non ci farei caso non so che serve in realtà però però devi prendere mining multi tool usa il mining multi tool mettilo nella crafting table quella piccolina proprio nel tuo inventario no non mi toglie cuori vero questa cosa non ti do e vedi c'è accanto i mossi stone bricks i mossi ah ok ti crea un portal frame questo portale va messo come il portale della meccanismo per creare una nuova dimensione ok e potremmo crearlo parallelo a quello della meccanismo oppure davanti in realtà davanti davanti dai davanti perché questo lo usiamo troppo spesso ah non è vero vabbè ok quello che ti pare aspetta devo farlo tipo così no esattamente come quello della meccanismo aspetta questi qua sotto devi toglierli tipo ok vai e poi devi cliccarci o con il multitool o con l'hammer oppure con il dimension changer allora io provo provo col martello magari entra dentro che ne dici non ce la faccio sei troppo grasso troppo mcdonald troppe cose non funziona no vai ok provo col dimensional vai non funziona è rotto oddio che sta facendo va bene non funziona hai fatto il portale rotto tieni premuto tasto destro che sta facendo non so cosa fai preghi fa tipo camia camia what cosa no raga no 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 dove sei finito raga no no dove sei dove sei raga mi sta continuando a teletrasportare ma dove sei no 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 adesso sono in un mondo flat ok ti ha tipo teletrasportato senza scusa bene noi siamo fottuti scusa hai lo charm of dislocation torniamo un attimo ok eccomi qua ma ce l'hai ancora la pallina magica si che ce l'ho ancora però raga allora clicca se non avevo il charm of dislocation ero fottuto a merda con il mining tool clicca qua con il mining multitool quel robo non ce l'ho il mining multitool ah te l'ha mangiato eh si ma davvero si ma non è possibile si ma guarda io faccio così vado di là vado di là ce l'ho io aspetta me lo sorriso oddio sto volando what the fuck adesso funziona meglio mi sa che mi porta anche all'altezione vero ah ok non l'ho fatto eh funziona si e poi arrivi in mezzo al portale ti shifti e vai nell'altra dimensione cioè non è che ti ci passi perché ah eccoti ho visto il portale ho visto il portale crearsi eccomi qua ah quanto vuoi essere grande quanto quello di un nether e qua possiamo fare infiniti query questa è la dimensione degli infiniti query flat oppure delle robe flat ma che bello fighissimo ma cosa è bello giorgia è un mondo flat con i buchi d'acqua è un mondo flat con i buchi d'acqua giorgia raga ci facciamo tutta la roba possiamo farci la roba tipo della magical crop dobbiamo allora io voglio il cazzo di di mana che non c'è una zona carina no magical crops voglio 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 i mana ingoti mi servono tutta la roba della botania la possiamo fare qui dentro magical crops possiamo fare anche una super struttura non lo so rituale magica cose belle no aspetta mickey 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 giorgia dimmi 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 è uguale identico penso di sì la proviamo sta cosa perché se ne possiamo fare due uno lo usiamo veramente solo per i quarry e nell'altro ci facciamo ci faccio tutta la serra per la botania per tutte ste cose qua mickey ma ti serve un altro mondo flat per fare una serra sì perché poi è blu è brutto il mondo tutto bucato vabbè ma basta che lo fai soltanto accanto al portale no è brutto tutto il mondo ma ma giorgia possiamo anche abbiamo il charm of dislocation possiamo metterlo anche più lontano sempre su questo mondo oppure puoi fare un altro portale della meccanism che ti porta in un posto vicino perché devi fare un'altra dimensione vabbè in realtà può essere carino abbiamo già dimensioni che avanzano abbiamo anche perché altri portali che abbiamo da fare ce ne sono è vero è vero no infatti altri portali così no io comunque ho messo le underquerry mamma mia ma dove sei accanto al portale allora io siccome non so come tornare lì uso no 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 il coso mi ha portato qua aspetta arrivo il coso mi ha portato qua il coso mi ha portato qua il pallino blu mi ha portato a casa se lo ripremevo l'ho riprenduto e mi ha riportato a casa ok è possibile sì cosa stai ah ok ecco ma c'è la stessa roba camo fatta nel nel deep dark però qua ok non so se ci conviene particolarmente però è comunque fico e se mettessimo la cesta di cristallo visto che ce l'abbiamo a casa inutilizzata effetti ancora con quella cesta è fissata ma giusto un po' che poi non vedrà mai nessuno qua usala per far arrivare le cose ficche Giorgia ma vai ma 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 funziona no non ho il cestino sta funzionando yeeeh yeeeh ma non abbiamo la whitelist yeeeh ma sti cazzi buttiamo tutto quanto nell'ender chest a cazzo duro eeeh buttiamo tutto nell'appli da cazzo duro oh oh guarda l'ender chest un secondo eeeh eeeh allora io direi buttiamo buttiamo nell'ender chest a cazzo duro cioè raga ma e poi ci pensiamo va bene va bene è andata quindi è andata ragazzi io direi che per questo video è tutto vi ricordo che domani non troverete il video perchè sarà domenica quindi lo troverete dei casini perchè deve trasferirsi deve ma no mi sono già trasferito per quello che mi sono mezzo rincoglionito ragazzi ve lo spiegherò meglio in un video comunque in descrizione trovate il link dei due video precedenti lunedì lo troverete su quello di Michele tanti soldi e noi esatto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e ci vediamo lunedì con un prossimo video ciao si vabbè fa del maleducato saluta anche lui lui chi? lui quello dentro il dito ah ok ciao anche a te ciao scusami ciao 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 ciao